Questa mattina i mercati cercano un po' di respiro dopo la giornata difficoltosa di ieri che abbiamo avuto non solo sulle criptovalute ma anche sul resto dei settori a parte l'energia che ha fatto una bella giornata, una bella performance, tanti altri settori erano abbastanza in ribasso. Il petrolio raggiunge nuovi record, anche i treasury yields, insomma abbiamo un po' di cose di cui discutere nell'appuntamento di oggi. Tra l'altro abbiamo avuto anche un terremoto questa notte quindi andremo a vedere tutto che cosa significa per il settore dei semiconduttori perché ormai ragazzi dovete vedere la panoramica tutta insieme, non potete più guardare solamente alle criptovalute. Come abbiamo visto ieri i settori hanno corretto tutti all'unisono, è qualcosa che molti non considerano. È vero, lo dico sempre, lo continuo a ripetere, le correlazioni vanno e vengono ma quando si uniscono solitamente è in momenti di panico più che in momenti di fomo. E quindi adesso dobbiamo vedere un attimo come si comporteranno tutti i mercati in vista appunto dei tagli dei tassi che arriveranno forse quando non si sa ancora perché è questo che alla fine crea molta confusione. Prima di passare a tutto il resto torniamo su Bitcoin perché Bitcoin al momento si sta configurando come un pattern di compressione anche su time frame più grossi. Infatti se andate a vedere il settimanale vedete che inizia a formarsi, anzi lo vedete meglio il giornaliero. Qua abbiamo l'ai, un altro ai, non mi sento ancora di tirare la linea sotto perché ancora questo non è confermato come lo potremmo scendere ancora di più. Se questa si trasforma in un upper flag potremmo andare a ritestare anche i livelli più bassi e quindi ci toccherà poi tirare questa trend line più in basso. Quindi ancora la lasciamo aperta, la lasciamo con un punto di domanda. Questa qua sopra mi sembra ben confermata e quindi potrà funzionare con il terzo tocco se mai arriverà. E quindi adesso potremmo avere un pattern di compressione anche sui time frame più grossi, quindi una cosa del genere perché no potrebbe entrare in gioco. E quindi mantenerci ancora sideways per un pochettino, ok? Questo è come si sta sviluppando bene o male. Qualcuno mi scrive sotto i commenti, e beh o lateralizziamo, andiamo su, andiamo giù grazie al chicchio, ci riesco anch'io. Non è questione di prevedere il futuro ragazzi, ve lo dico sempre. È questione solamente di essere un po' più preparati quando qualcosa deve succedere. Vi faccio un esempio molto pratico. Se io so che questo è un pattern di compressione, ok? Se io so che questo pattern può continuare a lateralizzare, giusto? Ovviamente devo farmi i conti, perché se adesso io dovessi mai entrare alla cieca in un trade long qui, per andare ad avere un target magari di rottura di questo pattern a rialzo, devo considerare la possibilità che essendo un pattern di compressione, questo mi può anche rompere bearish. E quindi mi può bucare queste resistenze, questi supporti. E quindi io devo avere un game plan. Cosa faccio? Metto un stop loss qua sotto? Oppure se voglio fare dollar average cost? Allora se voglio fare dollar average cost, ne me ne frego il trading, ne me ne frego i supporti, resistenze, stop loss. Ok? Forse devo considerare. Se questo c'è la possibilità che rompe a ribasso, mi conviene entrare qui? Che risk reward ho qui? Non mi conviene entrare magari più in basso? O se ho già una posizione cosa faccio? La lascio correre? Cioè sono tante cose che vi servono per tenervi un po' più preparati. Non significa che voi adesso sapete come romperà il triangolo, non sapete. È per questo che guardiamo anche il resto dei mercati. Per darci un'idea, una direzionalità, non per forza significa che dobbiamo prevedere tutti quelli che dicono così, è perché non sono persone pazienti e perché probabilmente pretendono di entrare a caso nel mercato e pretendono che questo salga perché devono fare soldi. Non funziona così nei mercati. E se mi seguite ormai da quattro anni lo sapete che non funziona così. Ok? Quindi è importante considerare tutto anche perché se Bitcoin continua a lateralizzare, come si comportano le Alcoins perché in questo momento Bitcoin Domains continua a lateralizzare anche lei e abbiamo questa volta un'esposizione un po' differente dalle altre volte perché la liquidità è passata prima dalle meme coin, è passata prima dai nuovi progetti, le big cap non stanno performando come alcuni vorrebbero che performano e quindi questa cosa sta rendendo i mercati un po' più complessi. Vi fa capire che comunque i mercati non possono essere previsti mai. Ok? Abbiamo anche Ethereum qua come vedete in debolezza. Ethereum che praticamente non sta vedendo un granché ragazzi di performance. Ha visto un pochettino di rialzo prima del Denkun ma poi hanno capito che comunque il Denkun non serviva poi molto ad Ethereum se non a scaricare la palla ai layer sottostanti e ora l'unica cosa che si può aggrappare Ethereum per dirla così come Catalyst è un ETF spot di Ethereum che se reagisse come quella di Bitcoin allora potremmo vedere la prossima Catalyst su Ethereum ma ancora non ci sono tracce di questo ETF spot e quindi Ethereum rimane ancora accantonato lì. Solana, Solana che tra l'altro ieri ha avuto un problemino e se andiamo a vedere l'avevo visto qui già che siamo in tema di Solana circa 24 milioni di dollari in St.Sol Staked token su Solana sono rimasti bloccati sulla piattaforma di liquid staking di Lido a causa di un contratto difettoso. Lido su Solana è stato chiuso nel 2021 a causa di problemi finanziari insostenibili e commissioni basse. Gli utenti che hanno Staked Sol sono ora impossibilitati a ritirare i loro fondi nonostante le istruzioni fornite da Lido un membro del team ha rivelato che c'è un problema col contratto smart e che si sta cercando una soluzione. Alcuni utenti suggeriscono di utilizzare protocolli alternativi per scambiare St.Sol con Sol. E qui del Solana channel Discord è un casino questo arriva da ieri poi probabilmente oggi magari hanno sistemato adesso non ho bene chiaro, non seguo molto questo tipo di operazioni su Solana però comunque questo era quello che c'era stato ieri. Ora andiamo avanti perché anche i mercati azionari che poi vi farò vedere hanno sofferto nella giornata di ieri esattamente proprio così e il dollaro è salito e il petrolio è salito molto ma lo andiamo a vedere più tardi rimanete sintonizzati fino alla fine perché sicuramente vi interesserà. Prima di continuare vi ricordo missione spazio del gruppo Telegram gratuito che trovate in descrizione qui abbiamo portato progetti abbiamo portato la presa di DOP abbiamo portato l'airdrop di BWB quindi ne porteremo altri progetti se rimanete sul gruppo e rimanete sintonizzati quindi gratis ve lo lascio in descrizione nel video così come i bonus più importanti del settore che trovate su Bitkate, Bybit se fate trading avrete un sacco di bonus sempre li trovate in descrizione quindi cliccate per andare a vedere di cosa si tratta e tra l'altro seguite anche Mindyar.io la sezione Intelligent fatevi un account, fate sign e subscribe perché è gratis vi arriva la newsletter mattutina rimanete sempre aggiornati in più gli articoli di Intelligence che sono i più approfonditi gratis quindi ragazzi non pagate niente non vi costa assolutamente niente andiamo a vedere un po' la panoramica di mercato adesso perché c'è stata un po' di ripresa su qualche nome andiamo a vedere appunto Atena, Ena come sta andando bene dopo il lancio guardate come sta performando abbastanza bene adesso infatti andiamo a vedere un po' che cosa abbiamo qui su Atena Atena Labs ha appena annunciato il lancio del proprio token di governance Ena e l'espansione della sua stablecoin che genera rendimenti il token sintetico USD il debutto imminente ha suscitato notevole attenzione anche da Arthur Ace infatti vedevo che stava oscillando dappertutto che era il CEO di BitMEX Atena utilizzerà questo nuovo token per essere più decentralizzato accessibile e sicuro l'azienda è inoltre distribuito gratuitamente il 5% dell'offerta totale di Ena a tutti i detentori di USD e USD come parte della sua campagna Season 2 che durerà 5 mesi ok? quindi nuova stablecoin nuova tutto andiamo a vedere un po' qui vi stavo facendo vedere il grafico appunto 0.88 al momento vedremo come proseguirà andiamo avanti a vedere un po' le altre core è sceso il 15% stava salendo ma poi è sceso nuovamente cioè stava salendo bene negli ultimi giorni aveva fatto una buona performance adesso si sta stringendo anche lui come vedete qui in questo pattern qui di compressione andiamo a vedere poi altri nomi Flare sta salendo Bitcat BGB sta salendo Sui sta scendendo Litecoin continua a performare bene Mantle quindi c'è stata un po' di ripresa se andiamo a vedere le top 300 sono tutte meme meme dei gatti meme su base le meme su base continuano a performare abbastanza bene layer 3 di tutto e di più abbiamo qui ragazzi quindi questo c'era Dejen che bombò l'altro giorno c'erano tutte queste meme dei gatti che vabbè già sappiamo quindi il mercato è fermo adesso in un momento un po' particolare secondo me vedete infatti se andiamo sulle big cap vedete che la maggioranza sono in rosso non vedete grandi performance quindi molti si chiedono ma come diavolo è possibile che stiamo vedendo pompare solo le meme e i nuovi token e non stiamo vedendo pompare nient'altro i misteri del mercato i misteri del mercato però questo vi fa capire che non è nulla scontato in questo settore gli ETF Bitcoin sono stati scambiati a 111 miliardi di dollari a marzo che è il triplo di quello che hanno fatto a febbraio ovviamente bisognerà capire adesso se questo trend continuerà ancora a salire oppure inizieremo a abbassarlo un pochettino se iniziamo a perdere un po' di questo trend possiamo già iniziare a vedere movimenti come quello di ieri più frequentemente quindi facciamo sempre molta attenzione a idolatrare le ETF solamente in alto perché possono tranquillamente anche portarci in basso le uscite del GBTC sono attualmente basse il che è notevole considerando che il fondo ha costantemente registrato altre uscite i dati a lungo termine mostrano che il GBTC ha registrato 15 miliardi di dollari di uscite nette dal suo inizio di gennaio il mercato di Bitcoin ha visto invece ingressi netti positivi con i newborn 9 che hanno registrato 12 miliardi di ingressi le scorse settimanali no sto dicendo con il petrolio le scorse settimane sono state particolarmente significative per gli ingressi con 800 milioni di dollari di ingressi quindi un po' sta calando questo hot flows di GBTC ma attenzione che entra in gioco un nuovo player prima di farvi vedere cosa dice Goldman Sachs attenzione perché appunto abbiamo nuovi player che sono due nuovi ETF legati a Bitcoin il ProShare Ultra Bitcoin ETF B2 che offre rendimenti doppi rispetto al Bitcoin stesso e il ProShare Ultra Short Bitcoin ETF S-Bit che offre rendimenti inversi questi prodotti aggiungono crescente offerta sugli ETF ma attenzione perché possono portare più speculazione anche a ribasso quindi questa cosa qui dobbiamo tenerla in considerazione comunque questo è l'ETF Gas of Cash che vediamo qua e BlackRock è il primo al momento ok parlando di Goldman Sachs vi dicevo che appunto ancora continua ad esprimere i suoi dubbi sul valore delle criptovalute dicendo che non hanno un valore che avranno difficoltà insomma a trovare un posto nel mondo e c'è un po' di ipocrisia come sempre da queste banche perché poi alla fine vediamo anche come JP Morgan che hanno le mani in pasta con tutto sempre e comunque ieri c'è stato un po' di fada anche per quanto riguarda il Dipartimento di Giustizia e il portafoglio etichettato appartenente al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che ha spostato 30.175 Bitcoin che erano quelli di Silk Road e quindi insomma si è scatenato un po' di panico iniziale però alla fine abbiamo visto che Bitcoin comunque ha ripreso terreno ieri dopo il dump che c'è stato vedete che il terreno è stato ripreso abbastanza bene poi abbiamo avuto anche i JOLTS opening ieri l'FOMC che parlava l'altro FOMC che parlava l'altro FOMC che parlava e quindi ora ci arriveremo comunque Bitcoin per il momento ha avuto un po' di ripresa nella serata di ieri abbiamo anche il recente rapporto di Coinbase che ha evidenziato i rischi associati al restaking all'interno del panorama DeFi di Ethereum sarà questo prossimo catalizzatore per un cigno nero non si sa però ad ogni modo il restaking è diventato un componente critico dell'infrastruttura di Ethereum ma al momento sono emerse preoccupazioni sul rapporto riguardo alle vulnerabilità finanziarie e di sicurezza il rapporto che tra l'altro trovate su mindachart.io in italiano praticamente sottolinea i rischi legati alle complessità delle strategie restaking che ci sono la potenziale discrepanza tra i token e i loro asset sottostanti la collaterale che potrebbero portare un po' di fragibilità e instabilità nel settore tuttavia c'è il gatto impazzito il rapporto riconosce che restaking è uno sviluppo nell'innovazione ma attenzione attenzione questo è il rapporto guardate qua questo era il TVL growth di Agent Layer come diciamo quello di Lido come stava andando quello di Lido nei tempi e questo qua è quello di Agent Layer guardate come l'ha sorpassato questa per me è una buona red flag perché guardate quanto fomo c'è dietro adesso Agent Layer e il TVL del restaking quindi attenzione ragazzi questo effetto Lego l'abbiamo già visto se vi ricordate nello scorso 2020 2021 quel che l'era insomma è qualcosa da considerare comunque tutto il rapporto lo trovate qui se vi interessa leggerlo su Intelligence di Mindset IQ Report ok troverete anche altri rapporti oggi scriverò anche quello di perché gli IV non stanno funzionando molto bene e via ok andiamo avanti perché questo ve l'ho già fatto vedere il team di Aave trovate interessante anche questo ha proposto un nuovo ARFC per regolare i parametri di rischio delle stablecoin DAI su Aave la proposta suggerisce di ridurre il rapporto prestito valore TGL di DAI allo 0% su tutte le implementazioni di Aave e di rimuovere gli incentivi SDAI dal merit program a partire dal round 2 perché è arrivata questa proposta questa mossa è la risposta al recente aumento dei crediti DAI causato dal programma D3M di MakerDAO ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa che aumenta il rischio di DAI come collaterale ok quindi ora insomma si è scatenato un po' un putiferio qua però comunque questo è l'articolo va bene andiamo avanti perché c'erano altre cose l'oro rompe il 2300 per la prima volta nella storia quindi l'oro sta pompando come un disgraziato ed è interessante questa cosa interessante perché come già dicevo nell'altro video ieri sapete che è un canale Marco Galazzi dove tratto solo finanza il resto diciamo dei mercati l'oro è in una posizione particolare perché per quanto le aspettative del taglio dei tassi di interesse sono diminuite in questi giorni per via di tutto quello che è successo l'oro continua a salire perché comunque è un bene rifugio e quindi siccome siamo in una posizione particolare non si sa se quindi l'economia rimane forte quindi non taglieranno i tassi di interesse o allo stesso tempo taglieranno i tassi di interesse debolendo l'economia e l'oro ha preso la posizione di bene rifugio e soprattutto le banche centrali lo stanno acquistando abbastanza aggressivamente quindi interessante questa cosa anche dell'oro attenzione qui perché la cina ha avuto un calo quindi le elezioni asiatiche sono scese a causa di rendimenti gli Stati Uniti e il terremoto che ha colpito Taiwan sollevando preoccupazione per i semiconductors perché tutte le aziende semiconductors sono a Taiwan praticamente i mercati stanno considerando anche i rischi di tali interessi più lenti perché praticamente hanno detto che non hanno molto fretta di tagliare i tassi in questo momento ok e andiamo a vedere un attimo questo terremoto come potete vedere qui guardate il disastro c'era anche alert tsunami poi adesso non so bene come come si sia risolta ad ogni modo interessante vedere i semiconductors perché il produttore di CipT1 semiconductor ha evacuato alcune aree delle sue fabbriche dopo il terremoto sull'isola e quindi questi sono quelli che forniscono i chip a Apple e invidia e stanno valutando adesso questo magnitudine o 7.4 sulla produzione se ci sono stati danni lo vedremo oggi all'opertura dei mercati in ogni modo mentre il petrolio come vi dicevo continua a salire anche questo crea preoccupazioni sull'inflazione e così via leggermente sta salendo un po' dappertutto perché appunto c'è la diminuzione delle scorte degli Stati Uniti e il potenziale interruzione dell'approvvigionamento in Russia tensioni geopolitiche l'attenzione si concentra ora sulla riunione dell'OPEC Plus prevista a oggi mi sembra più tardi che aspetta che il gruppo mantenga appunto la produzione invariata è così ok e quindi questo è tutto quello che abbiamo visto poi abbiamo visto anche i discorsi del Fed che hanno detto che non hanno fretta di tagliare i tassi Powell che ha parlato con Xi Jinping per quanto riguarda i DATS insomma un po' di cose che hanno tenuto in tensione i mercati ieri infatti l'energia era l'unico settore in verde comunque tornando a Bitcoin noi lo osserviamo insieme a tutto il resto perché qui sul mensile ve lo continuo a ripetere siamo abbastanza estesi ma non solo su Bitcoin siamo estesi un po' su tutto quindi questo è l'ultimo Ierlo mensile 25.000 nel caso dovesse iniziare una consolidazione mensile non è che è la fine del mondo perché abbiamo tanto spazio su cui lavorare anche per una continuazione futura non è che dobbiamo per forza salire tutto in un'unica lag che molte persone pensano che oddio saliamo tutto in un'unica lag o niente no potremmo anche fare tranquillamente un pattern del genere che non fa male nessuno che è anche una bull flag mensile e poi continuare magari più tardi verso la seconda parte dell'anno non è che necessariamente dobbiamo subito andare qua anche perché se saliamo subito così non è che siamo molto sostenibili a mio parere quindi vediamo come si svilupperanno tutte le cose bene questo era tutto per il video di questa mattina spero vi sia piaciuto ragazzi se vi è piaciuto iscrivetevi al canale perché molti di voi che guardano i video non sono iscritti con la campanella e vi serve perché nei momenti più importanti arriviamo sempre a voi e un'altra cosa lasciate un bel like arriviamo almeno a 150 milioni di like nel video di oggi noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti 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 ciao a tutti